A me questa squadra fa letteralmente impazzire, mi fa incazzare questa squadra. Perché in casa dobbiamo giocare così? Perché in casa dobbiamo giocare così? Perché in trasferta facciamo cagare? Perché facciamo 5-0, 4-0 in casa? Perché sembriamo il Madrid di altri tempi? Perché sembriamo il Barcellona di Guardiola in casa? Perché fuori casa facciamo cagare? Perché Bruno risegna 23 golle, Solerini segna 10 e abbiamo un attacco stratosferico e in altri reparti non siamo così fuori? Perché? Ha il Covid! No, non c'è il Covid. Perché? Perché? Perché, porca vacca? Perché? La domanda è perché? 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 Picchi, 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 perché? Perché mi fa impazzire questa squadra, eh? Perché? Dobbiamo adesso... Il Catanzaro perde in casa col Monterosi. Perché il Catanzaro perde in casa col Monterosi? La domanda è perché? Cosa farà l'Avellino domani? Cosa farà il Bari? Che cazzo se ne frega del Bari a noi? Che cazzo se ne frega? Il Bari vince il che vince il campionato. No, che cazzo se ne frega? Però noi dobbiamo arrivare terzi. No, potrebbero anche arrivare secondi. Ma il Monopoli va fermato perché il Monopoli c'è una partita in meno. Quindi adesso la prossima è col Monopoli. Monopoli-Palermo, ragazzi. C'è Brunori che è diffidato. Valente che è diffidato. Mi raccomando, non fate cazzate. Fatevi fare un viaggio a meggiugori. Fatevi capire che devono stare calmi. Non facciamo cazzate. Dobbiamo vincere. Perché? 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 Grande Palermo. Ma perché? La domanda è perché? Io l'unica domanda che mi viene da dire è perché? Perché?